Si chiama o meglio si intitola Amar Amore ed è il nuovo album del grande Neffa Un album davvero camaleottico, un album davvero di piacevole aspetto, di piacevole fattura Nel nuovo album ci sarà anche Rock, Hunt, Coes e Corey L'album va a, diciamo così, portare uno sguardo su quella che è la cultura di Napoli La stessa parola, Amar Amore, Amore è una parola che secondo me deriva da un diretto Quello partenopeo, quello napoletano che ovviamente non può sfuggire ai più È un omaggio anche ad un padre, ad una madre, ad una mamma, ad un papà Questo album, Amar Amore, dove abbiamo come fulcro proprio la parola Amore che viene vista O meglio viene elaborata, poi trasmessa proprio nel dialetto tipicamente napoletano Amar Amore Un valore totale, un valore intenso, un valore che ha tutto da custodire, tutto da realizzare, tutto da realizzarsi E soprattutto un album di cui sono soddisfatto perché comunque trasmette quello che è l'anima del grande Neffa Il cantante italiano per eccellenza Complimenti dunque a Neffa, il video termina qua Iscrivetevi al canale Noratovitaliano, commentate Ciao e al prossimo video Ciao